Il dilemma scuole aperte e scuole chiuse è ormai palesemente una questione politica che si sta consumando con uno scontro anche all'interno della stessa maggioranza di governo. Da un lato c'è la ministra Lucia Zolina, inopinatamente sostenuta da quello stesso Matteo Renzi contro cui il Movimento 5 Stelle aveva condotto l'intera campagna elettorale, che parla di tenere aperte le scuole il più possibile, dall'altro il Partito Democratico che invece incomincia a propendere per chiusure selettive o addirittura generalizzate. Lucia Zolina sostiene che soprattutto le scuole primarie e quelle dell'infanzia non devono chiudere perché si tratta di garantire non solo un servizio sociale indispensabile per le famiglie che lavorano ma anche di un luogo educativo di cui i bambini non possono fare a meno. Anche movimenti e sindacati chiedono di fare di tutto per tenere aperte le scuole, in più di una circostanza nelle ultime settimane il Comitato Priorità alla Scuola, al quale fanno riferimento soprattutto famiglie, gruppi di genitori di alcune grandi città, continuano a sostenere la necessità di non sospendere le attività didattiche in presenza. I sindacati del comparto non vogliono sentir parlare di scuole chiuse ma chiedono che alle scuole vengano assegnate ulteriori risorse, soldi, strumenti, personale. Su questo punto i sindacati sono tutti d'accordo anche se continua la polemica per il contratto sulla didattica a distanza che non è stato sottoscritto da Gilda Snals Will Scuola. Quest'ultimo sindacato parla di un accordo talmente inconsistente da aver costretto le parti ad accompagnarlo da una intesa e da una circolare esplicativa. La FLC, dopo un lungo dibattito interno, ha deciso di sottoscrivere il contratto solo pochi giorni fa, mettendo in difficoltà molti docenti che in prima battuta avevano apprezzato la mancata firma. Anche l'Unicobas inizialmente aveva visto di buon occhio la posizione della FLC CGL, ma dopo la firma, attraverso un lungo posto di Alessandra Fantauzzi dell'esecutivo nazionale, ha fatto sapere di essere rimasto deluso. Francesco Sinopoli, segretario nazionale FLC, spiega però che la firma è servita a strappare alla Ministra una intesa politica che garantisce il miglioramento delle relazioni sindacali, oltre che misure adeguate anche di tipo finanziario per sostenere la didattica a distanza e la formazione del personale. Intanto, per il momento, non si sa ancora nulla della legge di bilancio per il 2021. Negli anni passati a questa data la legge aveva già iniziato il proprio iter parlamentare e quindi il provvedimento dovrebbe arrivare alle Camere nei prossimi giorni. Sul tema c'è molta attesa da parte del mondo della scuola perché la legge dovrebbe anche prevedere stanziamenti necessari per l'apertura della stagione contrattuale. Ovviamente su tutto questo continueremo a tenervi informati, seguiteci su questo canale e anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it e come al solito inviateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come sempre.